L'Europa ci condannerà sempre, noi abbiamo inventato le navi, stai fatti, abbiamo inventato le navi, ma scusa, non abbiamo inventato le navi, li vai a prendere sulle coste, a 2 km, a 2.000 metri, dalle coste libiche, ma se Gianni Celi è un esperto della cooperazione internazionale, quando era socialista, avrà un po' di nostalgia della cooperazione internazionale con l'Etiopia. E' tutto più mirato, e almeno si facevano i progetti, perché i miglioramenti... Ma io sono d'accordo, ma tu che adesso sei passato da socialista, sei diventato a lista le viste, perché dopo ti sei disposizionato nel corso degli anni con grande capacità. Non hai il sistema, io guarda, io a differenza di te, sono stato votato sempre, capito? Io ho votato alla te, no, io più da te, da 30 anni vengo votato. E allora cosa vuol dire? Cosa c'entra? Cosa c'entra? Io registro solo, ma stai zitto, che eri socialista, ma che io mi sono presentato alle elezioni e sono votato, io auguro a te di essere votato e ti hanno segato, trombato, hai speso un sacco di soldi per fare le regionali e ti hanno trombato per sororamente. Ma non interessa, non entro in questo dibattito, capito? Mentre stiamo discutendo su problemi molto più presenti, molto più forti. Ma non hai nulla da dire, dici un sacco di sciocchezze, come è il tuo caso, un sacco di sciocchezze. Abbiamo detto tutti i sciocchetti, stui perdicolare.